Ho fatto il disegno di tutti quanti, ho fatto tu che sei la videomaker, che balli, Marco Mucic che è un animale del bosco con la ghianda, la Erika che è un po' la mamma di tutti e quindi abbraccio a tutti, Lele, Cosimo che è pensieroso, Makoto che è un furbetto, la Sara, io, Michele che è un festaiolo, Eugenio che è un po' interdetto, Fabio, Fabio Emo, Giacomo con il tesserino oppresso, che ce l'ha sempre dietro, la Lorella, un po' mortissima, e Alessandro che è un po' così in meditazione. E adesso vado a scansionare.